O la legge di stabilità cambia profondamente o no non la voteremo, così poco fa il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta, intenzione confermata su Omnibus anche da Osvaldo Napoli. Quella legge di stabilità come è presentata oggi, Forza Italia così come è oggi, non la vota. E nel momento in cui non la vota la politica ti dice che bisogna prendere atto di una composizione anche governativa ma in termine complessivo che la situazione non è più come prima e che non ci sono più gli stessi contraenti nel governo eletta nel caso il Forza Italia votasse contro. Non può che prendere atto di una situazione politica cambiata e non può che prendere atto di andare da Napolitano a dire la situazione è cambiata oggi, cos'è che devo fare. Una linea dettata ieri da Berlusconi che è tornato a Roma ha riunito lo Stato Maggiore di Forza Italia per annunciare le prossime mosse. La legge di stabilità così com'è non la votiamo perché è fatta di troppe tasse, inaccettabile per gli elettori del centrodestra e i margini di cambiamento non ci sarebbero più dopo l'ascissione del PDL. E dunque Forza Italia sarebbe sempre più orientata a passare all'opposizione. Ma Brunetta precisa, è il governo che va all'opposizione degli italiani. Un'opposizione annunciata che precederà la data cruciale del 27 novembre, giorno in cui sarà Berlusconi in prima persona a pronunciare la sua ringa difensiva prima del voto sulla sua decadenza. A supportarlo in piazza nelle stesse ore ci sarà la manifestazione che i falchi stanno già preparando. Ma in questa che sarà forse la sua ultima settimana da senatore, Berlusconi vuole giocare tutte le sue ultime carte, puntando soprattutto sull'impatto mediatico. Il Cavaliere batterà le tv nei prossimi giorni. Berlusconi dunque in prima linea a tutto campo anche per quanto riguarda il restyling del nuovo partito. Forza Italia deve svecchiarsi e trovare nuova linfa, facce giovani da affiancare ai senior di Forza Italia che secondo il Cavaliere sarebbero troppo assuefatti al mestiere, alla politica e al piccolo potere. Parole che preoccupano falchi e lealisti che temono gli innesti esterni, così come resta forte il sospetto che il legame tra Berlusconi ed Alfano resista ancora, anche se il Cavaliere ha smentito chi temeva una sua partecipazione alla Kermess del nuovo centrodestra il prossimo 7 dicembre. Oggi intanto alle 14 si riuniranno i gruppi di Forza Italia al Senato per decidere chi sostituirà Schifani nel ruolo di capogruppo a Palazzo Madama. I nomi in ballo restano quelli di Romani, Matteoli, Bernini e Nitto Palma. Ieri si faceva il nome dello stesso Berlusconi per drammatizzare ancora di più il voto sulla decadenza, ma l'ipotesi sembra tramontata. In vista dell'appuntamento costitutivo del 7 dicembre, anche Alfano e i suoi sono al lavoro per strutturare il nuovo partito e decidere chi rivestirà i ruoli di capigruppo. Ma quello che si consumerà a breve nel centrodestra ormai è un nuovo strappo, quello di Forza Italia dal governo delle larghe intese. Grazie.